Alcuni giorni fa stavo riflettendo sul fatto che nel mondo dei cosiddetti beer geek o comunque in generale degli appassionati appunto di birra soprattutto di birra artigianale e di quel mondo diciamo più modaiolo tra virgolette degli approcci alla birra mi capita magari seppur alla mente di imbattermi con per esempio persone che conoscono perfettamente che so le ultime release one shot del birrificio su cui c'è più hype in questo momento e poi magari non hanno mai assaggiato la Saison Dupont mostra i sacri tra virgolette come la Saison Dupont e effettivamente mi erano conto perché anch'io magari mi sono approcciato al mondo delle birre perché colpito da un determinato aspetto e poi dopo bisogna pian piano andare a recuperare le basi di quello che appunto è il vasto mondo degli stili e andare a vedere appunto quelli che sono mi piace proprio usare il nome mostra i sacri no la Saison Dupont la inserirei in questa categoria giusto per stare sull'esempio di una birra citata poco fa e ovviamente al di là del gusto personale che è sempre sempre insindacabile e questo vuole essere anche uno dei messaggi dei contenuti di questo canale effettivamente c'è un certo livello di oggettività che è necessario sempre tenere presente appunto perché per tornare sull'esempio della Saison Dupont appena citata che possa piacere o non piacere che possa sembrare molto old school per così dire quella birra oppure no oggettivamente i prodotti della Brasserie Dupont hanno un livello qualitativo elevato ed è bene ricordarci appunto che se oggi abbiamo le Hopi Season che tanto ci piacciono n varianti più o meno sour di queste birre più o meno lupolate di questi stili comunque appunto lo dobbiamo chi è venuto prima di noi e chi ha messo un po' le basi su quello che stiamo bevendo oggi e io credo proprio che per citare ancora la Saison Dupont sia una di quelle birre che è un po' come Tolkien una volta all'anno va letto e la Saison Dupont almeno una volta all'anno va bevuta per rinfrescarci un po' le idee e mentre facevo questi discorsi davvero boomer stavo ascoltando sempre qualche giorno fa la puntata del podcast Meshout Meshout podcast e si parlava di delle birre preferite degli autori che sono appunto le Blanche e le Weiss e mentre elogiavano queste fantastiche birre venivano citati due esempi di birre come un po' riferimento di stile una era la Ainger Weiss di cui appunto qua ho il bicchiere e l'altra era la Schneider Weiss e appunto è interessante che dovrei fare davvero un po' di lavoro di autocritica perché la Inger Weiss la conosco e la Schneider Weiss non ho mai assaggiata ho bevuto più di una volta la loro Ice Bock c'è anche un video sul canale la loro Weissen Bock la loro Weissen Ice Bock e poi dopo non ho mai bevuto la Weiss la Original la Classical come la chiamano loro e quindi appunto per questo motivo facciamo un piccolo passo indietro torniamo a studiare bene le basi e in questo video parliamo proprio di Weiss Beer come al solito vediamo la scheda con le informazioni di questa birra appunto già citato il birreficio Schneider und Son ci troviamo a Kelheim in Baviera il nome di questa birra è la Original Tap 7 anche se fino a qualche anno fa se non ricordo male veniva proprio chiamata Schneider Classic o qualcosa del genere adesso invece tutte le linee di Schneider hanno Tap e un numero in relazione appunto a diverse tipologie lo stile è quello appunto di Weiss Beer 10A per il riferimento BJCP 5,4 il volume alcolico bottiglie da 50 centilitri e mezzo litro a 3,40 euro acquistata presso grande distribuzione bicchiere suggerito Weissen Glass che è appunto questo bicchiere che abbiamo appena visto e sì si tratta di un primo assaggio partiamo innanzitutto dalla categorizzazione che fa il BJCP indicando appunto nel gruppo 10 le German Wheat Beer quindi le birre di frumento appunto tedesche e le divide in Weiss Beer, Dunkel, Weiss Beer e Weissen Bock è interessante sottolineare che a volte viene utilizzata l'espressione Weiss che significa appunto letteralmente bianco in tedesco a volte Weizen Weizen significa invece frumento possono essere utilizzati entrambi per indicare questo tipo di beer dove il frumento è uno degli ingredienti principali o comunque diciamo caratterizzanti e che si distacca dalle birre che normalmente sono brassate solo con malto d'orzo ma appunto Weiss si riferisce al colore tendenzialmente più pallido, più palescente di queste birre cosiddette bianche mentre Weizen non proprio del cereale in Germania non si segue ovviamente il BJCP che è molto recente, ricordiamo è nata fine anni 80 la classificazione del BJCP mentre le birre vengono brassate da secoli e secoli in Germania basti pensare che proprio il famigerato Rhein-Heinz-Gebot emanato nel 1500 ha impedito l'utilizzo di frumento proprio per non fare concorrenza tra i produttori di birra e le aziende che panificavano quindi significa che le birre di frumento esistevano prima del XVI secolo senza dubbio e appunto in Germania la classificazione che spesso si trova sulle bottiglie è la distinzione in Efe Weizen e Crystal Weizen la differenza è che le Efe, Efe vuol dire proprio lievito sono birre non filtrate quindi dove può essere presente del lievito in sospensione mentre le Crystal appunto sono quelle cristalline quindi con un processo di filtrazione dove appunto viene rimosso il lievito e leggiamo un po' il BJCP adesso senza leggerci tutto il capitolo sulle Weiz le caratteristiche principali le parole chiave diciamo per così dire di questo stile sono secondo me innanzitutto il Refreshing che viene nominato più e più volte in tutto il capitoletto per quanto riguarda invece l'aroma Banana e Chiodo di Garofano sono sicuramente i due descrittori aromatici su cui dobbiamo un attimino soffermarci poco lupolo, leggermente lupolate e il bilanciamento aromatico e gustativo ma soprattutto aromatico deve essere proprio tra la parte fruttata e in particolare la banana e quindi la parte di esteri e la parte fenolica quindi speziata e in particolare il Chiodo di Garofano ci sono esempi commerciali secondo me sbilanciati da entrambe le parti mi viene in mente alcune birre ho un ricordo della Capuziner per esempio è una vice da supermercato sicuramente palesemente sbilanciata sulla parte di esteri con questo profumo di Big Bubble secondo me proprio di gomma da masticare molto molto accentuato o mi vengono in mente altre vice forse, non vorrei sbagliarmi forse la Francis Cainer adesso così a memoria molto sbilanciata sulla parte fenolica con un profumo che un aroma che può ricordare spesso quei prodotti disinfettanti o sanificanti alcune volte viene descritto qualcuno come odore di medicinale effettivamente sì delle parti fenoliche molto spinte possono ricordare quel tipo di aroma aroma di lupolo assente o se presente molto 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 contenuto ricorda il BGCP anche l'amaro deve essere sempre molto contenuto ma al finale secco quindi nessun residuo zuccherino e appunto questo finale secco l'amaro non deve essere dato dal lupolo ma quella leggerissima parte amara che caratterizza la fine del sorso della vice deve essere data dall'assenza appunto di residui zuccherini quindi della secchezza corpo medio il frumento potrebbe amplificare la sensazione di cremosità di fullness come si dice in inglese appunto della pienezza diciamo in bocca di questa birra ma appunto il corpo deve essere comunque medio e la carbonazione deve sempre essere presente ed elevata le vice anche le cugine belghe e blanche ma le vice in particolare sono sicuramente le birre più carbonate cioè quindi il più alto contenuto di CO2 per quanto riguarda gli ingredienti con cui vengono brassate 50% malto d'orzo 50% malto di frumento anche se BGCP riporta di alcuni casi in cui la parte di frumento può arrivare fino al 70% ma sono molto rari si dice sempre la guida e appunto la differenza con le blanche è che il frumento utilizzato per le vice è maltato mentre nelle blanche non maltato anche se la differenza principale qui non è tanto data dalla caratterizzazione che può dare il fatto che sia maltato o non maltato il frumento la grande differenza tra blanche e vice sono i lieviti differenti e il lievito da vice è molto chiaro ed è inconfondibile ma perché questa birra di Schneider-Huntsson è così importante perché nel 1872 quindi rancore in vigore il Reinhardt che tecnicamente si considera concluso solo con la riunificazione di Germania est e ovest e la fine della guerra fredda quattro secoli di editto nel 1872 appunto stavo dicendo Schneider ottiene la concessione dal re di Baviera per poter utilizzare il frumento cosa fino a quel momento vietato appunto per colpa del Reinhardt che vot di conseguenza c'è questo breve periodo in cui Schneider ha il monopolio di fatto sulla produzione di birra di frumento e quindi tutte le birre di frumento tutte le vice che noi beviamo oggi sono tra virgolette derivate da questa birra ha un po' diciamo risettato lo standard per questo stile c'è da precisare che però prima del definitivo accantonamento del Reinhardt è stata fatta una modifica pochi anni dopo all'inizio del 1900 non ricordo la data esatta in cui in seguito alle scoperte che hanno permesso di distinguere il lievito come quarto ingrediente importante ricordate che come dicevamo nella puntata su Reinhardt inizialmente gli ingredienti indicati per la produzione della birra erano solo tre acqua, cereali e luppolo non si nominava lievito che ancora non era conosciuto ma dopo le scoperte in ambito microbiologico ovviamente nella seconda metà del novecento si è distinti si è fatta una distinzione tra birra ad alta e bassa fermentazione e solo le birra a bassa fermentazione dovevano rispettare i criteri dei Reinhardt quindi sulle alte fermentazioni sulle ale si poteva brassare con il cereale che si voleva con le aggiunte che si voleva e così via solo le lager rimanevano tra virgolette obbligate a seguire questo editto della purezza e passiamo adesso finalmente all'apertura della bottiglia due cose del volo sull'estetica il tappo riporta Schneider Vice e appunto tap 7 c'è scritto original sul tappo mentre l'etichetta è tripla una piccola etichetta qua in alto e doppia etichetta frontale con appunto il logo di Schneider e il nome della birra le altre birre hanno ovviamente toni di colori diversi ma ricalcano sempre la stessa veste grafica l'unica è ricordate dalla puntata sulla Icebo che innanzitutto non è da 50 a differenza di tutte le altre birre in linea da Schneider ma è da 33 la Icebox e ha un tono leggermente diverso il colore è sul viola ogni birra ha un colore di fondo particolare ma è un po' diversa proprio l'interfaccia grafica diciamo con dei profili do radio insomma sembrerebbe una sorta di doppia linea questa è un po' più minima nel disegno è un po' più spartana mentre la Icebox ha un'etichetta un pochino più premium per così dire e passiamo quindi all'apertura di questa birra anche con il bicchiere inclinato è molto frizzante come birra e direi che mi fermo qui e passiamo come al solito all'analisi visiva della birra schiuma abbondante una texture in questo caso medio medio-grande addirittura le bolle sono molto regolari ma appunto hanno un diametro piuttosto grande la birra è direi un ambrato ed è molto limpida riuscite a vedere bene le bollicine che non si attaccano sul bicchiere che è stato correttamente pulito ma dal fondo appunto vanno verso l'alto la persistenza della schiuma non è elevata si sta già smontando volendo potremmo fare un rabbocco ma non sapendo se si tratta di una Efe Weizen o di una Crystal Weizen non vorrei versare per adesso perlomeno il lievito eventualmente puoi fare una degustazione del lievito successivamente e passiamo quindi al naso e sì l'intensità aromatica non è elevatissima effettivamente ma ci sono esattamente le cose che ci aspettavamo la parte fruttata e sì l'escrittura di banana e la parte speziata in questo caso tra esteri e fenoli tra frutta quindi e spezie la bilancia è leggermente spostata verso le spezie ma comunque sono in equilibrio secondo me i due descrittori aromatici non ce n'è uno che prevale soprattutto non ce n'è uno talmente invasivo sull'altro da risultare fastidioso comunque sgraziato al naso qui ci sono entrambi nonostante appunto l'intensità non sia così elevata è comunque un buon equilibrio ed è lupolo appunto non vi è traccia adesso che si è smontata un pochino la schiuma e ho aspettato qualche minuto effettivamente l'intensità aromatica è leggermente incrementata forse anche perché si sta un pochino scaldando mentre tengo il bicchiere in mano ma appunto la qualità dei descrittori è la stessa aumenta la quantità a livello proprio di intensità ma le tipologie di descrittori sono quelle indicate prima e passiamo quindi al palato proverò a separare la descrizione il più oggettiva possibile della birra dalle sensazioni personali per quanto riguarda appunto una descrizione il più possibile oggettiva la birra in bocca è caratterizzata da una corsa comunque sempre dolce dall'inizio alla fine del sorso il corpo è piuttosto leggero medio tra medio e leggero diciamo così e sicuramente la frizzantezza come anticipato è ben presente ben percepibile sul finale non arriva la classica chiusura amara e anzi quello che continua in bocca sul retro gusto sul retro olfatto è ancora questa parte principalmente la parte fruttata che lavora ancora un pochino in bocca ma non più di tanto cioè adesso che sto parlando in questo momento ho già perso quasi completamente dell'aroma in bocca di questa birra quindi appunto un finale piuttosto breve il mio commento personale e ripeto personalissimo questo tipo di birre con questa dolcezza così comunque accentuata non perché ci siano zuccheri ma perché appunto manchi gran parte del luppolo rischia di razzentare la stucchevolezza o perlomeno non sono anche se non sono un amante delle birre particolarmente amare o delle grandi luppolate potrebbe secondo me compromettere diciamo la scorrevolezza comunque la bevibilità il fatto che la birra comunque non finisca comunque con quella punta di amaro che ripulisca un attimino il sorso inviti a fare il successivo resta sicuramente un ottimo esempio di vice e sicuramente così deve essere l'unica cosa che mi ha colpito è questo colore che si avvicina pericolosamente all'ambrato mentre invece mi aspettavo appunto una vice sicuramente più pallida e anche un pochino più opalescente un pochino più velata non che sia limpidissima però insomma riesco a vedere chiaramente attraverso il bicchiere lo schermino della telecamera dall'altra parte insomma qui appunto questa cosa mi ha un pochino sorpreso però per quanto riguarda appunto i descrittori diciamo che siamo perfettamente all'interno di ciò che il BJCP ci ha detto che ci saremmo aspettati da questa birra l'etichetta ci ricorda che questa birra non è né filtrata né pastorizzata ma ho provato a versarne ancora un po' e non si è portato dietro fondo ora la bottiglia è molto scura e quindi non sembrerebbe esserci particolarmente fondo all'interno della bottiglia anche se adesso che verso il fondo effettivamente si ho sollevato il lievito era semplicemente molto ben compattato e adesso appunto spero si riesca a vedere magari con la luce si riesce a vedere meglio c'è questo strato di lievito che sta andando sul fondo l'effetto è molto interessante a livello visivo ma appunto non è detto che tutti preferiscono consumare la birra in questo modo con il lievito e ricordiamo che in tal caso fate un colpo solo e poi il lievito può essere versato a parte ma adesso appunto farò qualche prova per vedere se cambia qualcosa e quindi con la vice originale per così dire di Schneider school l'abbiamo 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 Grazie a tutti.